È la prima volta che frequenti una donna più grande di te? Sì, è la prima volta, poi comunque lei è una donna intelligentissima, una donna veramente tanto... Cioè tu ti eri innamorato, avevi perso la testa? Ma ti dico che comunque ero abbastanza preso da lei, abbastanza preso, sì. C'è stato un momento in cui le ho detto appunto che ero cotto, che ero innamorato, che però poi i continui litigi ci hanno portato a prendere delle decisioni non volute da parte mia, che lei comunque ha sofferto tantissimo, anche il distacco ha sofferto tantissimo, proprio la chiusura totale. Io poi mi sono immedesimato in lei nel momento in cui ho detto mettiamo un punto alla nostra relazione. E lì è stata, secondo me, a parer mio, una cosa che ho pagato oggi. Io ho pagato il giorno che sono uscito. Vi siete baciati, però prima di uscire lei ha dato un bacio. Sì, 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 inaspettato, però... Erano quei giorni, comunque erano gli ultimi giorni in cui ci eravamo proprio uniti di nuovo, no? Perché io mi sentivo protetto da lei quando andavo da lei, la cercavo molto spesso, che mi sentivo. Ma... Grazie. Grazie. Grazie a tutti